www.quillworts2.com Dimmi Dimmi Ma che tu mi dici? Allora Oh trullo ma che tu fai? Iacane Eccolo Dai dai Ascolta Allora Stiamo qui Su Quillworts2 Alla ricerca Di quella merda di trano Vaffa Cura Che non arriva Che non ci arriva tanto Ma non so che Il server è diverso Non arriverò mai Come è una diversa? No non so non so non mi ricordo dove stavamo prima Questo è il nostro No 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 vabbè li prenderà dall'overflow al massimo Ma ora sta arrivando anche io Perché stavamo per me Ah attenzione Oh io so quasi 61 Cioè devo stare di stronti così più bello Nooo 61 Nooo Sì Ma è cosa mi è linkato di waypoint E' quello dove ci sono io E' il love land burns waypoint Linkate il love point più vicino alla fortale Per camberlo Non mi ricordo se era nessun caso Love land burns waypoint Un po' che su sopra era no? Non mi ricordo ma andate Ah comunque questo è quello che è stato linkato Dentro da un posto Però non so se è quello Effettivo insomma More No brava così si fa E c'è qua Tor Cos'è il momento di Ma fa nella mia mappa con me Ma dove state voi? Ma dove state voi? Io sono una prima manata Ma è un momento di giro Ma io non sono no la prima volta di la cittadina voto il quattro 4.5. e non dovrà essere 4 4.5 aspettando e se si vede ma manca poco adesso non mettere solo se che è una catena è una catena di vitico qui dove 4 la mia foto di non dove vuoi io allo lento buon anche a volte il portale al certo per caso come la pietra un argento ma la remorzente se io ho ormai pago quasi sempre la mamma era già in questa mappa a guardia ecco la cacca ti vuole topperlo e spero ara alla porta del pezzo io non trovo il portale per cambiare zona panni quattro rassati spenta allora se ti spiego come arrivarci magari che l'ho appena fatto dove sei ora aspetta aspetta di lo spiego allora tanto lo vedo per la matta per acqua eh no ma un casino come dice me sei no ti sto ti sto linkando il webpoint ma ma dovrebbe do passare da scalogna in city no allora io sono l'hai visto il mio webpoint che ti ho incontrato hai presente dove è da angelo livello 30 eh c'è l'hai quel webpoint lì io sto alla zona sotto quella del 1 15 ok allora dalle 1 15 aspetta aspetta eh devi andare a dusk and overlock webpoint no no è quello che gli ho linkato ok ma va dormi e poi arrivi al secondo che ti ho linkato e poi arrivi al quello che ti ho linkato ah guarda c'è anche ok ma quanti cazzo siete ci sarà un motivo se ci stanno 400 persone qua no e ci sarà un motivo se c'è un mortaio che si può controllare più di un mortaio tanti mortai dall'altro inizio inizio non l'ho visto perché a me mi venuto scritto che era atterrato ho visto un casino e sono venuto si si va è un tonto come sto facendo il cuore ma in chat con noi almeno ma che cazzo vabbè ammazza gente io intanto devo livellare ah giusto c'è il cuore da fare io non l'ho fatto ancora ecco che non c'è più nessuno ho livellato sperimenti sperimenti ma non ti ho fatto mettere tutti i tratti no ma mi fa male sta merda che cazzo era è una merda di lento andu restami adesso con dove andu è morto ma dove allora adesso arriva dove l'hai vista l'hai vista la mia taglia butta giù butta giù sta merda mi fa male non capisco eh ho perso un sacco di dita no ma no è questo muore ah no ah no che cazzo mi ha messo 4 miliardi di cose mi trasformo ah vai lì cazzo ho sentato mille buono ma quando cazzo è niente questo drago di merda chiamalo drago drago oh cazzo si può usare il cazzo ok devo finirlo devo finirlo sto cacchio di cuore manca poco io sono lontanissimo ancora a finirlo eccolo 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 no no è drago no no è drago ma mannaggia no dai drago domani non ti porto un altro amico mio a giocare ti sta facendo il duorso domani capito è una un errore possibile conosciuto già quello che è successo anche a terra guarda anche da il loot e che non ti dà l'esperienza quindi preparatevi che può succedere foto contente ma non importa il loot poi se mi dà l'esperienza in pazienza eh il loot più che altro mi sa il problema l'esperienza non è che te ne darà così tanto mi pare bevato volumina non lo ricordo l'ho fatto prima no io prima ho riportato un bug ragazzi lo sai personale il problema è che il bug non esiste perchè aveva visto dove stava che cazzo hai fatto? mi sono autotrollato in pratica io non trovavo il pc no? non lo trovavo che lecchino è un bug non si è cioè l'ho riportato e il bug che cazzo l'ho trovato dopo che cazzo che cazzo che fai sti cosa tutti i ragazzi del drago ma direi che è un drago che fornò da volta ogni oh è aritato magari sei la cena il dolce è durato di più per sicurezza sparate ovunque c'è diversità c'è la testa le zampe questo è un po' di colpi anche un po' di colpi di quella di là si però se fai join dove si uscirà venire per il nostro ma poi c'è un saluto solo per quello che ho usato no no io non sono un altro questo è un certo io ti vedo il proprio che è il suo ascolto vedo l'orso sono più oppure se oh e sono io sono se non si racconta la mappa ma io non avevo un po' no 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 non siamo noi siamo noi allora perché come fai a vedere lord perchè lui non è nel overflowne anche lui guardo io ho visto ma io per questo lo vedo penso passporto per il tuo il video sto facendo già ma no beh lascia stare sì sì allora schiaccia a bifo e per quanto siamo forti che stiamo dicendo come potete su dai tito no no non è vero ma ti aspettati eccola eh ecco le quali vogliono la scuola cazzo io gli sono alle spalle però parca puttana ok e sono troppo vicino quanto cazzo lungo 8 8 io ho soprattutto una nuova attenti 10 3 devo arrivare da voi 22 e 18 vediamo quanto tempo po suonite il suo approvare alle gambe oddio mi arrivo da una tampata in faccia ma io tu abbassò la grafica guardo te ma non fa un cazzo per un cazzo di lato per un cazzo di drago fanno una volta eeeh troppa gente troppe avevi di quanto aveva c'è un atto un caldo sono morto no è difficile che mori ciao ho traghetto oddio dio dio purò dopo di pacchiare quanti effetti dove cazzo di cazzo di aia oddio tutto tutto qualcuno è morto per questo questa volta non ho mai visto morire nessuno prima ha dato una bocca alluminante il mezzo for great justice adesso vediamo porca puttana quanti cazzo sono qui sono tutti qui sono tutti qui sono tutti qui madò sai mai è power che gli faccio adesso a tutti questi ahahahahah ma di me e ti metti a tutti oh gli ho fatto oh che ho gli ho fatto mille di danno eh ma io non capisco un cazzo dai come ci sto capendo un cazzo è vero io li curo che sta gritando io ogni tanto faccio una mossa ma non so se lo sto facendo davvero ha un baule enorme dopo lo vedi si bellissimo guardate quanti stack che c'ha di qualsiasi cosa infatti io voglio scosare le abilità allora ha 25 stack di bleeding 25 di burning è blindato vabbè blindargli la tampa può essere utile fin a certo punto però dai gliela blindo anch'io l'ho buttato a terra io è regolare ora ho anche da scommario se volete ma sta morendo ma è già morto si si questo va già facile ma i cristalli i cristalli i cristalli ok ci sono altri qui se non dai tutti si sblocca come quello si sblocca eh come quello di te cazzo ecco vai sblocca dai pezzo finale pezzo finale vai ruggiero 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 bisogna solo continuare a tirargli come se abbiamo fatto fino adesso tipo il presidente presidente occhio ha fatto paura stavolta ruggiero io ho avuto una spada a me tutto questo casino che c'è ma io to così lo fa volevo farlo no 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 che scagge io l'ho sponata la spada eh no non so dove almeno non la fa sponare guarda l'altra zampa io ragazzi ahahah ho mollato quella zampa e troppo incasinata è morto no ancora quando cazzo le morire cristalli occhio ti faccio il culo si vede dai ue eh dove li stanno arrivando ma cazzo sta la gente muore che è scema si vabbè qui in mezzo come la vede la ue è morto nostro croce e dai ora muore ecco ora 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 ti possiamo ritirare ora 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 vai ecco lo vedi io guarda che c'è guarda che c'è pronto dove vai dove vai sta scappando sta scappando corretti di titolo oddio ma che cos'è ho il mio stavo cincontri in breve la mia stima sono roma verde a stocicino eh io ho 4 3 3 3 3 dove c'è la sesta scusa è grosso di lui dove c'è tutta giusta ma io non la vedo qui l'ho ah baggato credo per l'ordine non la vedi su 100 minuti si sono voluti come non la vedi no non la vedi dove sono io lo sento qua ti vedi qui è qui eh no non so è entrata ok è baggata anche tu è baggata anche tu è baggata anche tu figa no no niente f tu che stagione prima ma tratta di eh la medaglia la medaglia dell'evento nice work mi ha detto no no dicono come si chiama dalle esperienze shit game no forse sto nice work è un'altra cosa ma che bella torcia ho trovato dove passare delle cose nice work nato roba forse se se non viene però mi vado se vado via di nuovo da sta mappa perché ti lagga in maniera paurosa a me è per niente ma io sto baccando da fare schifo adesso ma c'è fai pochi fps o non c'è un sacco proprio tutto che non sta andando ah ah e quando ho insomma c'era un potere non te lo tira cioè grazie amore ah 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 anzi bisogno di oro io vado a contro io intanto vado a controllare l'astrotrad ok vabbè dai alla prossima a a a a a a